Opposizioni pronte a dare battaglia a Vallo della Lucania su più fronti. I consiglieri di minoranza del gruppo PD, Nicola Botti e Francesca Serra, hanno presentato richiesta di verifica della stabilità degli edifici scolastici. Una questione emersa un po' dappertutto, dopo il terremoto avvenuto nel centro Italia e le sue conseguenze disastrose. I consiglieri vallesi però sono intervenuti con un documento inviato all'amministrazione. Nel territorio comunale di Vallo della Lucania scrivono, insistono diversi edifici scolastici che accolgono ogni giorno migliaia di persone. Come gruppo PD chiediamo una verifica di stabilità sismica su tutti gli edifici scolastici di Vallo, di conoscere i risultati delle prove di carico statico sui solai e sulle scale, di sapere se i documenti di valutazione dei rischi di ogni singolo fabbricato hanno evidenziato pericoli e chiediamo che per ogni struttura venga rilasciato un certificato di agibilità tecnico. Infine i consiglieri vogliono essere informati, scrivono nella missiva, sulla natura dei lavori, adeguamento sismico o meno, che stanno interessando il fabbricato della scuola per l'infanzia Aldo Moro, sito in via dei Politis. Sulla questione si attende la risposta dell'amministrazione Aloia, che non si è fatta però aspettare nei confronti dell'altro gruppo di opposizione, il Movimento 5 Stelle, che nei giorni scorsi con Pietro Miraldi aveva sollevato la questione dell'aumento del costo relativo al servizio di tesoreria. In base ai dati del bilancio di previsione 2016, Miraldi aveva denunciato un passaggio della spesa dagli 8.733 dello scorso anno agli attuali 17.395. Il servizio è lo stesso, aveva detto Miraldi, perché il costo è raddoppiato. Pronta la replica del primo cittadino, il consigliere, dice il sindaco Aloia, parla sproposito. Il presunto raddoppio non è altro che la perfetta evidenza contabile della somma del compenso di due anni, 2015 e 2016. Tutto inserito nella competenza 2016 perché il tesoriere non ha fatturato il compenso entro il 31-12 di quell'anno. L'ex assessore al bilancio del Comune di Vallo della Lucania, concluso Aloia, fa finta di non conoscere le attuali regole contabili. Ma Miraldi non demorde. L'amministrazione non si è accorta, dice, di aver già messo la cifra nel rendiconto 2015. Che facciamo? Paghiamo due volte? Grazie. 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 Grazie.